La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Oggi voglio approfittare di questa nota radio per leggere un discorso di Donald Trump che racchiude perfettamente quello che il popolo italiano sta subendo oggi sulla propria pelle. Quindi vi invito ad eliminare ogni filtro mentale, a non giudicare chi queste parole le ha pronunciate e a provare a riflettere invece su quanto siano attuali sul caso italiano. Inizio la citazione. Non c'è nulla che l'establishment politico non farà. Non c'è bugia che non diranno pur di mantenere il loro prestigio e potere a vostre spese. Ed è quello che sta succedendo. L'establishment, le corporation finanziarie e dei media che finanziano esistono per una sola ragione, per proteggere e arricchire se stessi. Questo che stiamo vivendo è un crocevia della storia della nostra civiltà, che determinerà se noi popolo riusciremo o no a reclamare il controllo del nostro governo. L'establishment politico che sta cercando di fermarci è lo stesso gruppo responsabile per il nostro disastroso commercio e per la massiccia immigrazione clandestina e per le politiche economiche ed estere che hanno portato il nostro paese a secco. Per loro è una guerra e per loro niente ha un limite. Questa è una lotta per la sopravvivenza della nostra reazione. Nazione, in realtà siamo controllati da una piccola manciata di interessi particolari globali che pervertono con il loro sistema il nostro sistema. Questa è la realtà. L'establishment e i loro media controllano questa nazione attraverso mezzi che sono ben noti. Chiunque sfida il loro controllo è considerato un sessista, un razzista, uno xenofobo e moralmente depravato. Loro ti attaccheranno, loro ti calumneranno, cercheranno di distruggere la tua carriera e la tua fama. Useranno ogni inganno per distruggere tutto di te, inclusa la tua reputazione. Mentiranno e ancora mentiranno. Faranno tutto ciò che è necessario. La nostra civiltà in tutto il mondo civile è arrivata al momento della resa dei conti. L'abbiamo visto già nel Regno Unito, dove hanno votato per liberarsi dal governo mondiale che ha distrutto la loro sovranità e hanno distrutto molte di queste nazioni. Ma la base del potere politico globale è corrotta ed è la nostra corrotta classe politica che è il più grande potere dietro gli sforzi di radicale globalizzazione e della privazione dei diritti civili delle persone che lavorano. Le loro risorse finanziarie sono virtualmente illimitate. Le loro risorse politiche sono illimitate. Le risorse dei loro media sono senza eguali. E cosa più importante, la profondità della loro immoralità è assolutamente illimitata. Fine della citazione. Vi prego di fare vostre queste parole senza pensare se siete d'accordo o no con chi le ha pronunciate perché in queste parole c'è tutto quello che gli italiani dovrebbero venire a sapere delle azioni della nostra classe politica e mediatica ai loro danni. approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.